Ed è il momento dell'incontro con le nostre ospiti. Oggi abbiamo in studio Anna Maria Pollichieni, che è il direttore della sede regionale dell'Inail Marche, e Michela Ballini. Buongiorno. Michela Ballini è assistente sociale della sede Inail delle Marche. 21 milioni di euro, questo è il finanziamento che l'Inail, l'Istituto Nazionale di Assicurazione e Infortuni sul Lavoro, erogherà nel corso del 2017 per il reinserimento e per l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità a seguito di un infortunio sul lavoro. Direttore, un impegno nuovo e importante per l'ente? Sicuramente sì, anche perché ricominciare a lavorare dopo aver subito un infortunio sul lavoro, soprattutto se ci sono state delle conseguenze di natura psicologica che fisica, può comportare dei problemi. Ecco quindi che la legge di 190-2014 attribuisce all'Istituto delle competenze specifiche in materia di reinserimento e integrazione lavorativa. Interventi quindi che si vanno ad ampliare per quanto riguarda le competenze dell'Istituto e sempre più diretti ad una presa in carico globale del lavoratore infortunato. Dottoressa Ballini, quali sono in concreto gli interventi che l'Inail può attivare proprio per facilitare il reinserimento lavorativo dei disabili? Sì, gli interventi sono di tre tipi. Abbattimento delle barriere architettoniche, in questo caso il finanziamento sarà al 100% per un massimo di 95.000 euro. Per abbattimento delle barriere architettoniche intendiamo tutti quegli interventi finalizzati a garantire la massima fruibilità e accessibilità del luogo di lavoro. Quindi parliamo di installazioni di ascensori, servo scala, adattamenti dei bagni e quant'altro. Un altro tipo di intervento è quello che riguarda invece l'adeguamento della postazione lavorativa. Anche in questo caso il finanziamento è al 100% per un massimo di 40.000 euro. In questo caso invece parliamo di tutti quegli adeguamenti degli arredi, per esempio la fornitura di particolari ausili informatici, l'installazione di particolari dispositivi nelle macchine alle quali i lavoratori disabili lavorano, proprio per agevolare l'utilizzo degli strumenti di lavoro. L'ultimo tipo di intervento invece sono gli interventi di tipo formativi, finalizzati al 60% per un massimo di 15.000 euro. In questo caso parliamo di tutti quegli interventi che accompagnano attraverso un tutoraggio, attraverso la formazione, i lavoratori disabili all'utilizzo di questi nuovi strumenti che possono essere forniti o lo addestrano a un'eventuale nuova mansione alla quale il datore di lavoro potrà poi adibirlo. Direttore, chi sono i destinatari di questi interventi di cui abbiamo detto adesso? Sicuramente sono i lavoratori tutelati Inel che hanno subito un infortunio sul lavoro e che a seguito di questo infortunio non sono più in grado di espletare le mansioni che fino a quel momento ponevano in essere. In questo modo con il reinserimento, con i progetti di reinserimento lavorativo, abbiamo la possibilità, diamo nuovamente la possibilità al soggetto di lavorare. E a livello economico, pratico, insomma quali sono gli stanziamenti e come possono suffruirne i datori di lavoro interessati? Beh, i datori di lavoro devono senz'altro manifestare la loro volontà e disponibilità a riprendere e a lavorare il soggetto che ha subito un infortunio. In questo caso, presso la sede competente dove praticamente è stata aperta la pratica di infortunio, verrà realizzato un progetto personalizzato che chiederà anche la collaborazione appunto del datore di lavoro. Ci sarà anche la presenza di tecnici e professionisti forniti dall'istituto e a seguito di questo appunto il soggetto potrà riprendere a lavorare. Ricordiamo che il finanziamento a livello nazionale stabilito di cui potrà usufruire l'Inail e quindi i datori di lavoro e le persone che hanno subito un infortunio è di 21 milioni di euro. Per tutte le informazioni relative ai progetti di reinserimento lavorativo è possibile consultare il sito www.inail.it oppure rivolgersi alla direzione regionale dell'Inail o alle sedi competenti territorialmente. Allora noi ringraziamo e salutiamo i nostri ospiti. Buongiorno, vi auguriamo buona giornata e buon lavoro.